Gentili colleghi, presentiamo qua un caso di una paziente alla ventunesima settimana di gestazione venuta alla nostra osservazione per un'ecografia di questo periodo. Immediatamente incentriamo l'attenzione su una condizione essenziale nell'acritismo placentare. La placenta è previa, la placenta è previa anteriore, previa centrale in una paziente con una storia di un TC pregresso. In questo caso immediatamente vediamo che la placenta copre la parete anteriore e soprattutto il tratto isterotomico della parete stessa. Abbiamo una condizione in cui il clear space tende a scomparire in alcune parti e quindi questo significa che vi assenza di decidua basale, assottigliamento del miometrio e soprattutto vediamo immediatamente l'aumentata vascularizzazione nell'interfaccia tra sieroso, uterina e vescicale. In questo caso abbiamo un quadro tipico di accretismo placentare. Ora quindi abbiamo da porre un'attenzione all'esame ecografica di questo trimestre. In questo caso vedete alla cervice la placenta la copre completamente, passa a punte. Abbiamo la prima condizione da tenere presente, quella di una placenta previa centrale. Poi abbiamo, come vedete, che in alcuni punti il clear space è scomparso. Quello che può dare immagini di clear space in effetti è la presenza di lacune placentari. Lo spessore miometriale è assolutamente sottile, con assottigliamento e c'è questa ipervascularità nell'interfaccia tra sierosa, uterina, vescica e placenta, parete uterina. Per quanto riguarda queste lacune vascolari, sono seni vascolari di forma irregolare e oblunga, a margini netti che tendono ad approfondirsi nello spessore retroplacentare. Il flusso apparirà turbolento al color doppler e quindi, nonostante siamo a 21 settimane, abbiamo già questo tipo di vascularizzazione. E questo fa sì che si possa correlare l'infiltrazione placentare con una prognosi tendentalmente scadente per quanto concerne l'outcome. In questo caso, anche se siamo in fase precoce, bisogna fare un ottimo consoling con la paziente, spiegare che cosa significa placenta previa, soprattutto spiegare che in questo caso, essendo una paziente operata di cesareo pregresso, abbiamo il rischio, e se non già la presenza, di avere una placenta accreta. Abbiamo un'infiltrazione dei vasi che, se vedete bene, tendono a decorrere verso la sierosa vescicale. E qui vedete come la varice è proprio alla cicatrice isterotomica. Quindi, questo assottigliamento del miometrio e questa vascularizzazione anomala, questa infiltrazione nella sierosa vescicale, la scomparsi in alcuni tratti del clear space, l'assottigliamento del miometrio, e al color doppler, la presenza di questi vasi aberranti che protrudono dalla parete uterina verso la vescica, fanno sì che vi sia una identificazione di un grado di invasione che ci fa protendere per una placenta accreta in creta, per cui la paziente viene resedotta, che deve concordare una pianificazione del corretto management chirurgico, che prevederà, come vedrete da un filmato allegato, commentato egregiamente dal professore Martinelli, che in questo caso la programmazione chirurgica è essenziale. Un caso del genere a 21 settimane sarà una placenta per creta, una placenta che tenderà a infiltrare verosimilmente anche la vescica, e in questo caso la pianificazione chirurgica potrà tutelare il feto e soprattutto la madre da danni che spesso sono tragici, veramente drammatici. Grazie per l'attenzione, colleghi. Grazie.